no presto dobbiamo tirarlo fuori no presto no presto no presto no presto no presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, non c'è di che. Insomma, abbiamo vinto? Tirerei di sollievo. Non ho fretta di intrappolare la mia anima mortale. Non sarà necessario, Nicolai. Il futuro è cambiato. Il Cronorium? Leggilo. Scopri la tua chiamata. Devi mantenere la tua anima. Servirà a sconfiggere il Dottor Monty. Chi? Io sono ancora qui. Aspetta! Che cosa ho fatto? Ero come tu che ti avresti lasciato morire di salvato. Ero così triste. Il ciclo è interrotto, Dottore. Pertanto, le polizie di assicurazione non servono più. Vorrei poterti dire che mi dispiace, Edward. Ma mentirei. Non puoi aiutarmi. Sei un dottore. Aspetta. Non lo sai. Chi sono io? Ho visto miracoli e calamità. Dimensioni, nascere e colasare. Solo io possiedo la chiave. No! Voglio essere io. Quello che ha fatto tutto il lavoro! Volevo continuare. Questo meio. Io, 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 il miglioro. E non ricorderai nulla. Io, io, io,reno. Grazie a tutti.